...6 con questa giornata che ci fa iniziare il mese di marzo, oggi mercoledì 1 marzo 2017. Ci lasciamo dunque alle spalle il mese di febbraio, come sempre lo faremo leggendo le pagine dei quotidiani abruzzesi e le prime pagine delle testate nazionali. Partiamo subito dalle edizioni del centro, poi vedremo la prima pagina del messaggero Abruzzo e quindi della città. Siamo all'edizione Aquilana, case equivalenti, grana per il comune. L'Aquila, valori crollati e gestione difficile da parte dell'ente. Poi ancora sotto la testata, temi che poi ritroveremo anche sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Cappato si autodenuncia, appelli dall'Abruzzo, suicidio assistito dopo il caso DJ Fabo. Poi ancora coppie gheri riconosciute, la doppia paternità, storica decisione a Trento. Diaspora PD, nascono i gruppi di MDP, la scissione è cosa fatta. Fisco, redditi, la media degli italiani è di 20 mila euro. Stati Uniti, Trump attacca Obama e dietro la fuga di notizie. E poi ancora di spalla, delitto a Trieste, sacerdote sotto processo per omicidio. Sempre all'Aquila, primarie PD, Pietrucci contro Di Benedetto. Trasacco, addio a salvi, ex comandante della stradale. Poi in basso, terremoto e maltempo, D'Alfonso dice allargheremo l'area del cratere sismico. Risarcimento di 5 mila euro di famo Trifuoggi, condannato l'assessore Silvio Paolucci. Poi calcio di Serie D, l'Aquila caccia il DS Battisti. Congelati rimborsi ai calciatori, Morgia potrebbe lasciare. Poi ieri l'addio a Leone di Lernia, aveva 78 anni, addio al Leone che amava l'Abruzzo. Prima pagina dell'edizione di Chieti, del centro vendita con truffa, scatta la retata. Chieti arrestati Luciano e Gianni Bellia, insieme a noti professionisti. E poi ancora di spalla, poste rapinate a Chieti dai banditi in maschera. San Salvo, la gang dei sette assalta la profumeria. E poi a Tessa, a San Marco, 163 lavoratori salvano il posto. In basso, a Lanciano, il comune sfratta i gazebo. Via dal centro storico, negozianti e baristi in rivolta. Prima pagina dell'edizione Terramana. Protesta a Roma, partono in 1700. Riempiti 34 pullman per la manifestazione contro il decreto sisma. E poi Terramo Alta, frana la collina, minacciato anche il centro storico di Canzano. Di spalla il PD, processa di Sabatino. Lui si alza e va via. Tensione nel partito. Terramo, malati psichici confinati in periferia. Tra Giulianova e Roseto arrivano i fondi per sistemare il ponte di legno. E poi in basso, Martinsicuro, supermarket nell'ex discoteca. Via alla demolizione dell'edificio che ospitava il Silvermoon. Edizione pescarese, sbloccate 26 assunzioni alla ASL, via libera della regione per 10 infermieri, 15 operatori e un nefrologo. Poi la fotonotizia, il carnevale ridà il sorriso. Chiusura in bellezza, il clou delle feste a Francavilla. Di spalla, Pen Brioni se ne va. L'amministratore Flore arriva Paliù. Pescara, smog, limiti superati 20 volte in due mesi. Abussi attraversa sulla statale, muore investito. Poi in basso, ancora la querelle in seno alla Pescara Calcio, Sebastiani Iannascoli e scontro. Non c'è accordo tra il patrone e l'ex amministratore delegato per la cessione del club. E la prima pagina del messaggero Abruzzo. Omicidio, Don Paolo ha giudizio. Il parroco di Pizzoli comparirà a giugno in corte d'assise. Accusato dell'uccesione di un anziano sacerdote, tradito dalle macchie di sangue. Ma lui dice, non centro. Sotto la testata, Pescara, addio a Leone di Lernia. La città perde un amico. Teramo, decreto cratere oltre 1500 domani in marcia verso Roma. Per il calcio controcorrente, l'Aquila non paga il mister. Morgia resta via Battisti. Si è conclusa con l'esonero del direttore sportivo la crisi apertasi in Casa Rossoblu dopo i pareggi e l'addio al sogno. Promozione. Leggiamo ancora. Qui al centro, banche e aziende raggirate. Megatruffa in carcere i fratelli Bellie. Poi di spalla nessun risarcimento. L'ultima offesa per Fabrizia. Per i tedeschi è solo una vittima di incidente stradale. L'ambasciata ripara. Poi, in dettaglio medio, vediamo la fotonotizia. Cantone assolve la ricostruzione. Il presidente dell'ANAC sulla governance. Poi ancora, Vandari e Movida. Danni consistenti al mercato coperto. A Pescara, un anno dal restauro, il comune costretto a stanziare altri 30 mila euro. Poi in basso, Università. Rettore, corre pure Trinchese. Avanti con la città. Il quotidiano della provincia di Taramo. Questa è la prima pagina. Pressing sulla casa dello studente. Il rettore ed amico incassa la rimozione dei vincoli. Il progetto da 9 milioni si è rimesso in marcia. Sotto la testata, Musp. Montorio fa da sé e prova i moduli emiliani. Scuole sicure senza l'aiuto del governo. Dentro il PD, Renzo lapidato per l'accordo con i rosetani. Renzo di Sabatino. Poi la fotonotizia. Tutti a Roma. Emergenza a Teramo. 30 bus in partenza per la protesta. Poi di spalla le richieste di Dodo di Sabatino. Assessore alla ricostruzione. Vice sindaco e candidato per il dopo Brucchi. Sempre di spalla. Giulianova. Tempi stretti per la caserma dei Carabinieri. Poi ancora in basso. Sciacalli tra le case di Valle San Giovanni. entrano nel paese abbandonato a causa del terremoto. Poi in basso. Mascherina d'oro. La vittoria va ai due baci perugine. Per lo sport. Calcio di Lega Pro. Il Teramo si affida al modulo inaffidabile con la difesa a tre. Proseguiamo ora la nostra rassegna dando spazio ai titoli delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalla stampa. Ma i giudici sì alla coppia di padri gay. Strappo della Corte d'Appello di Trento. È la prima volta in Italia scontro sulla sentenza. Hanno avuto due gemelli in Canada con la maternità surrogata. La volontà di cura prevale sul legame biologico. Poi c'è l'editoriale di Francesca Sforza. La vita riempie i vuoti della politica. In taglio medio vediamo la fotonotizia. Trump al congresso. La mia rivoluzione. Pronunciato nella notte il discorso alle camere riunite. Promette meno tasse e più posti di lavoro. Di spalla leggiamo anche. Arriva il pieno dei tagli. Il destino di Alitalia. Si decide in 48 ore. La prima pagina di Repubblica. Il titolo d'apertura. PD scoppia il caso Tessere. A Napoli le offrono gratis. Polemiche in altre città primarie. Orlando attacca. Emiliano scorretto. E poi ancora sotto la testata. Pinotti così cambia la difesa. Nasce il pentacolo italiano. Meno comandi e più giovani. Ancora di spalla. Tradito da tutti. L'ultima reggia dello Zaro. Un treno fermo in campagna. E poi ancora. Il presidente della Repubblica Mattarella. Dice nessun malato deve sentirsi dimenticato. La prima pagina di Libero. E' arrivato il momento di fare la legge. Siamo pronti alla morte. Dopo DJ Favo. Un altro va in Svizzera per l'eutanasia. La lista si allunga. La politica si costerna. Ma non fa nulla. Sentenza pazzesca. Due gay in Italia. Riconosciuti padri di due gemelli. Anche senza nessun legame di sangue. E poi al centro. Terrore al Milan. I cinesi comprano solo tempo. La vendita fissata per venerdì. Slitta ancora. E poi di spalla. L'articolo del direttore Vittorio Feltri. Le pensioni dei politici. Torgono i vitalizi e incentivano furti e mazzette. Avanti con il sole 24 ore. MBC è stretta sul rischio derivati. Stress test 2017 sul rischio tassi. Le pagelle dell'Eba. I grandi istituti in linea con Basilea 3. Vertice tra la vigilanza di Francoforte. 68 banche sotto esame ai modelli interni e ai titoli di livello 3. L'apertura del messaggero. IRPEF 12 milioni non la pagano. I redditi degli italiani la metà sotto 15 mila euro. Zero tasse per un contribuente su tre. Un milione ha dovuto restituire il bonus da 80 euro. giochi maxi in posta sulle vincite. E poi l'editoriale di Marco Gervasoni svolta sui programmi una sterzata sociale per la rincorsa ai populisti. E poi in taglio medio leggiamo. Intanto c'è la fotonotizia. Putin rilancia la sfida a Trump. Anche noi pronti a riarmarci nella notte il piano USA su muri e migranti. Poi per la politica. Udienza disciplinare il 3 aprile. Emiliano scelga fra toga e politica. Il CSM ora anticipa le primarie del PD. Maternità surrogata a due papai. Il legame genetico non conta. Prima volta in Italia. I giudici. Prevale il prendersi cura dei figli. Poi in basso. Marra e Scarpellini in aula. Tremano i politici. Chiesto il giudizio immediato per l'ex braccio destro di Raggi. E l'imprenditore. Il giornale. Sentenza shock. Eutanasia delle mamme. Soppresse dai giudici. Utero in affitto. Due uomini gay e riconosciuti padri. Addio. Legame biologico. E poi sotto la testata. Tutti i soldi e le tasse degli italiani. Il rapporto del MEF. In 12 milioni non versano l'IRPEF. Reddito medio di 20.690 euro l'anno. I lombardi guadagnano meglio. Avanti con l'avvenire. Una corte legalizza. Lutero in affitto. A Trento paternità. Di due gemelli. A coppia gay. I giudici di appello. La tecnica di procreazione non conta. Perché i bambini nati in Canada. Hanno ormai sei anni. Preoccupazioni trasversali. E poi in basso. Bagnasco. Fabo è morto. E noi tutti siamo sconfitti. Poi il gazzettino. Odissea. In 23 ospedali per abortire. Obiezioni di coscienza e burocrazia. Donna di Padova. Sbalottate in tutto il nord-est. Prima di ottenere l'intervento. Il fatto quotidiano. Cucu. Gli 80 euro. Non ci sono più. Due milioni di beffati. Post verità. E mance elettorali. Il fatto quotidiano. Parla di salti in banchi. Poi Trento. Due gemelli nati nell'utero in affitto. Affidati ai due padri. In basso. L'amico Bacci al fallimento. Lotti gli prende 450 mila euro. La famiglia del ministro. Recupera il suo investimento. Avanti con la verità. Due milioni di italiani. Costretti a restituire il bonus di 80 euro. Mentre dava i soldi. Che gli hanno affruttato il 40% alle elezioni europee. Il rottamatore diminuiva le detrazioni fiscali. Risultato. La mancia. Ha fatto superare i parametri a molti beneficiati. E lo Stato si è ripreso i quattrini. E poi verità distorta. Noi bigotti. Tutti i paesi vietano il suicidio di Stato. Nel commento, nell'editoriale del direttore Maurizio Belpietro. Il manifesto. I dannati voucher. Oltre il danno. La beffa. Nel rapporto CGL. La drammatica condizione dei voucheristi. Sfruttati sul lavoro. In coda alle classifiche dei precari. E con una futura pensione di 200 euro. E scontro con l'Inps sui contributi previdenziali. Camusso al governo. Subito alla data del referendum. E poi il mattino. Utero in affitto. Sì a due padri. I giudici di Trento. La mancanza di un legame genetico. Non è un ostacolo. E poi sotto la testata. Un titolo di sport. Regalo alla Juve. Napoli vergogna. Valeri nega il rigore ad Albiol. E lo concede a Quadrado. Nella semifinale di andata di Coppa Italia. Giocata ieri sera a Torino. Poi Gazzetta del Mezzogiorno. Sì alla coppia di due padri. Gentiloni in campo sull'eutanasia. Presto confronto parlamentare. Morte assistita per un altro italiano. Il Vaticano parla di sconfitta. Il secolo XIX. Sui migranti è scontro. Toti governo. Il presidente è un sistema da rivedere. Il ministero. I prefetti agiranno per legge. Il tempo. Così antagonisti e black bloc. Rovineranno la festa dell'Unione Europea. L'antiterrorismo. La nota sul ricompattamento dei teppisti. Tam tam. Tutti a Roma in occasione dei 60 anni dell'Europa. E poi la fotonotizia al centro. Oggi c'è il primo derby. Anche in questo caso la gara di andata di semifinale di Coppa Italia. L'unità precari oggi. Pensioni da fame domani. Questo è il titolo d'apertura. Così con questo titolo possiamo lasciare la fase nazionale della rassegna stampa. Possiamo tornare sui quotidiani abruzzesi e ripartire da pagina 4 e 5 del centro dove viene ripreso un argomento che tiene Banco a livello nazionale. Che appunto viene calato nella realtà abruzzese. Fine vita in Abruzzo. La verità di Severino. Parlamento di ipocriti. Il giovane di Casoli. L'eutanasia è facoltativa. Non obbligatoria. Chi è contrario è illiberale. Ora va subito approvata la legge Coscioni. La mia vita è tanto infernale che non di rado sono colto da depressioni infinita. A ottobre volevo farla finita. Poi la mia amica Mina Welby mi ha dissuaso. E poi altre testimonianze. Parla anche il papà della piccola Noemi Andrea Sciarretta. Troppi problemi per il disabile che decide di vivere. Poi in basso suicidio assistito. 75 abruzzesi con Exit Italia. L'associazione dà informazioni sul ricovero in Svizzera. Coveri. Le famiglie sono lasciate sole. Anch'io ho avuto la tentazione della dolce morte. Ho fatto il viaggio in clinica. Poi ho deciso di continuare a vivere per aiutare le persone che hanno bisogno. Poi ancora pagina 5. Terremoto e maltempo. D'Alfonso allargheremo l'area del cratere sismico. Il governatore vanno considerati i problemi intervenuti dopo il 18 gennaio. La marcia dei sindaci. I problemi vanno affrontati senza animosità. Questa è una regione che da 8 anni conosce ripetutamente la prova del dolore. Il negoziato è dedicato alla viabilità minore, alle imprese agricole e ai danni indiretti. Poi ancora in basso Sanitopoli. Paolucci di Famo Trifoggi. Il tribunale di Campobasso condanna a una sanzione di 5 mila euro l'assessore ed ex segretario del PD. E poi di spalla Palazzo Centri, l'inchiesta sugli appalti gestiti dalla regione Abruzzo. Palazzo Centri, il 6, il riesame sui ricorsi degli indagati. Avanti ancora con le pagine della cronaca in Abruzzo. Fabrizia, dimenticata dalla Germania, lo sfogo e il dolore dei genitori della giovane sulmonese uccisa a Berlino, negato il risarcimento per le vittime del terrorismo. L'ambasciata tedesca studia un concorso per i ragazzi italiani che vivono in Germania. E poi Brioni lascia la di Flore, lo sostituisce Paliù. L'amministratore delegato lascia dopo due anni, preoccupati i sindacati, ronca la CGL e chiediamo certezze sull'impegno di Kering sul sito di Penne. Avanti con la cronaca di Pescara e si parla di smog. A pagina 12 e 13 tira una brutta aria. Polveri oltre i limiti per 20 volte in due mesi. L'assessore all'ambiente scotolati per ora sicura non è ancora emergenza. rinviati per ora i blocchi del traffico vertice tra i comuni per stilare un piano. Poi in basso c'è questa testimonianza del ricercatore di Carlo, Piero Di Carlo, ricercatore di fisica dell'atmosfera all'Università d'Annunzio. Nessuno riesce a capire le cause del PM10. Solo da maggio i problemi dell'inquinamento spariranno naturalmente. E poi lo pneumologo, attenti alle malattie croniche da smog, Giorgio Cortese, è fondamentale la prevenzione contro la broncopneumopatia, ostruttiva terza causa di morte. È una malattia subdola della quale ci si accorge spesso dopo i 50 anni, quando ormai troppo tardi. Sotto terapia è solo parzialmente reversibile, non si fuma più nei locali chiusi, malaria è peggiorata a causa dell'inquinamento e provoca ipersensibilità che produce asma e problemi bronchiali. Avanti, sempre con la cronaca, vendite con la truffa, scattano sette arresti, in carcere i fratelli Luciano e Gianni Bellia. Per la procura di Perugia il danno è di 2 milioni, anche MPS tra le vittime, messe in piedi tre imprese fantasma in apparenza solide e attive sul mercato. Venerdì i primi interrogatori. In basso, la marineria vuole garanzie ad Alfonso, ieri la manifestazione nazionale con bombe carta a Roma contro le nuove sanzioni. Oggi l'incontro. Il piano per la sanità, ASL sì, della regione a 26 assunzioni. Paolucci firma il nulla osta, posto a tempo indeterminato per 10 infermieri, 15 operatori, un dirigente nefrologo, il manager Mancini. Prenderemo il personale nel corso dell'anno compatibilmente con il tetto di spesa che resta di 167 milioni. E poi ancora psicoterapia, pazienti in rivolta, presentati tre esposti al NAS. Avanti senza pensione a 103 anni, il caso arriva in Parlamento. Interrogazione di Melilla al ministro del lavoro. L'anziano pescarese da mesi aspetta una visita domiciliare per ottenere invalidità civile e accompagnamento. E poi ancora, proroghe alla Soget, due esposti dei 5 stelle, segnalato il caso della società riscossione tributi alla Corte dei Conti e all'ANAC. Si accertino irregolarità. Poi in comune, proteste in comune, doppio intervento dei carabinieri, allontanati due cittadini. Poi il ricordo di Leone di Lernia, scomparso ieri. Quante risate in spiagge. Insieme a Leone di Lernia, il conduttore scomparso ieri, trascorreva le vacanze nella sua casa sulla riviera. Bagnatori e baristi lo ricordano col sorriso. Faceva scherzi a tutti ed era umile. Avanti ancora, in vestito sulla statale, muore a 71 anni, a Bussi. è accaduto questo fatto. Gabriele Scurti di Santo Stefano di Sessagno stava attraversando la strada quando è stato travolto da un'auto. La cronaca a Montesilvano, evitato il dissesto con i fondi riservati al pattinodromo. Incalzato dalla minoranza, il presidente di Marco spiega perché sono sfumati i 750 mila euro assegnati al Dascagno. Dunque progetto azzerato per i vincoli di bilancio. Avanti ancora, Carnevale, ultimo atto tra sfilate e bimbi premiati. A Francaville ha chiuso la saga di Patanello con un bilancio che parla di 25 mila presenze alla festa. Gli organizzatori chiedono aiuti per la scuola di Cartapesta. Riordino sanitario, popoli, pronto soccorso fuori standard. L'agenzia regionale boccia la proposta di legge per salvare il reparto di emergenza. sarà solo punto di primo intervento. Pagine di Chieti e l'Aquila. Chieti il colpo di Carnevale, banditi armati e mascherati alle poste, puntano l'arma contro la direttrice e fugono con 12 mila euro. La donna è una collega colte da malore e soccorse. Sulla vicenda, in generale sulla sicurezza in città, abbiamo ascoltato ieri il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. È un progetto che è presentato tre anni fa, il 4 aprile 2014, cioè un mese prima delle elezioni. È un progetto che non aveva i vedi per camminare. Mancano documenti in continuazione, ci sono solleciti di carta. Sindaco Di Primio, l'accoltellamento di pochi giorni fa allo scalo, la rapina all'ufficio postale, questa mattina al Teat Center. Chieti è ancora una città sicura? Ma come si fa a dire che Chieti non è una città sicura? per due episodi sicuramente gravi, ma altrettanto è vero che non sono una serie di episodi che possono cambiare la sicurezza della nostra città. Io rifiuto categoricamente coloro che pensano che un'attività commerciale, per quanto si svolga di sera, possa essere un elemento che crea violenza o crea criminalità. Così come penso che una rapina in un ufficio postale, con quello che leggiamo ogni giorno, non possa determinare una pericolosità degli uffici pubblici e postali, dei nostri uffici postali in città. Sicuramente questo invece è un elemento che deve farci comprendere che non può più esistere disinteresse da parte di nessuno, né sottovalutazione dei problemi. Quello no. Cioè io mi rifiuto di sottovalutare il problema delle pericolosità di alcuni episodi che si verificano durante le nottate, soprattutto nella parte bassa della città. Così come dico che se vi è una rapina in un ufficio postale deve essere altissima l'attenzione da parte delle forze di polizia che si occupano di ordine pubblico perché ciò non avvenga più. insieme a quello che possiamo fare come comune. Cioè il comune deve alzare anch'esso le barriere verso questi fenomeni che sono fenomeni sicuramente preoccupanti ma che ripeto non possono cambiare quella che è la storia di una città che è quella di una città tranquilla dove episodi di violenza si verificano ma sono assolutamente episodici. Si può fare una differenzazione però tra la parte alta della città e lo scaro dove evidentemente c'è forse qualche problema in più? Guardi, nella parte bassa della città c'è una concentrazione maggiore di locali dove si ritrovano la sera fino a tardi gli studenti i ragazzi i giovani i cittadini di Chieti nella parte alta c'è una zona quella di Porta Pescara e Via Toppi dove ci sono altrettanti locali dove ci si ritrova la notte i disagi di locali che fanno attività soprattutto durante la notte e li conosciamo vanno gestiti vanno controllati io non escludo di incontrare sto pensando di incontrare gli operatori economici della nostra città per proporre loro delle soluzioni rispetto al controllo e alla prevenzione che devono essere fatti per combattere questi fenomeni sempre a Chietin sette assaltano la profumeria San Salvo la gang ripresa dalle telecamere mentre svuota gli scaffali la rivolta dei segretari di ripartimento Teneo contestata la classifica di valutazione per il Tar Capasso non poteva essere cacciato dal CDA pagina dell'Aquila il delitto del seminario Don Paolo a processo per omicidio l'ex parroco di Pizzoli accusato della morte violenta di un anziano con fratello sacerdote avvenuta a Trieste in basso sfida tra Pietrucci e Di Benedetto il segretario Albano formalizzerò le primarie del centro destra tutto questo nella corsa alle prossime elezioni comunali all'Aquila contestato lo svuotamento post sisma riempire di nuovo il lago appello da Campotosto senza acqua muoiono le attività pagina terramana terremoto e rabbia riempiti 34 pullman per la protesta a Roma riunione organizzativa in provincia domani tutti i sindaci in delegazione per chiedere modifiche al decreto sisma ai presidenti di Camera e senato al corteo parteciperanno rappresentanze da Pescara Chieti e l'Aquila fra i 1700 manifestanti anche l'attrice Scucci Marra e poi in basso frane a rischio il centro storico di Canzano il comune chiede aiuto è un'enorme fenditura si apre tra il quartiere di Terramo Alta e la SS 81 Vittorio Sgarbi in visita a Campli sono cittadino onorario l'aiuterò a restaurare i monumenti danneggiati noi ci fermiamo finiamo qui la prima parte di mattino 6 adesso spazio alle previsioni del tempo poi la pubblicità e poi ci ritroveremo con la seconda parte di nuovo buongiorno e ben ritrovati con la seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con il messaggero Abruzzo nuovo stop della ASL al progetto Maltauro lite sul super ospedale dubbi sull'interesse pubblico la lettera del responsabile del procedimento scatena le opposizioni Duri Febbo e Marcozzi il costo supererà i 700 milioni dice il consigliere di Forza Italia l'assessore troppo tempo perso e allora ieri abbiamo ascoltato proprio le parole dell'azzurro Mauro Febbo in relazione proprio al project financing dell'ospedale di Chieti ascoltiamolo è un progetto che è presentato tre anni fa il 4 aprile 2014 cioè un mese prima delle elezioni è un progetto che non aveva i vedi per camminare mancano documenti in continuazione ci sono solleciti di carte e la procedura che invece è prevista per un progetto di finanza non è questa ma ci sono soprattutto delle incongruenze enormi non c'è un atto a favore dell'ente pubblico non c'è un atto a favore della Regione Abruzzo o della Alze si chiede il cofinanziamento nessuno dei due enti Alze e Regione Abruzzo iscrive ancora nulla in bilancio non si ha la capacità di bilancio di mantenere un costo guardate si continua a parlare furbescamente di 235 milioni di Euro ma non è vero lì si parla di 235 milioni il manufatto poi ci sono 12 servizi che vengono esternalizzati totale costo 704 milioni di Euro e per le esternalizzazioni io credo che i nostri concittadini sanno che è stato il CUP o soprattutto il servizio mensa e ristorazione che c'è oggi nel nostro nosocomio di Chieti ci sono delle peculiarità che vengono evidenziate dal RUP e quindi la massima autorità dove si dice che per esempio non c'è la revisione dei canoni quinquennale ma si va avanti di aumento in aumento senza chiamare altre ditte per sapere se quegli aumenti sono dovuti o non sono dovuti così come non si capisce perché dove sta scritto che bisogna se si possa fare un'app di secondo livello tra l'ospedale di Chieti e l'ospedale di Pescara questo viene rimesso in evidenza perché nessuno ha detto se si può fare quanti posti rimangono a Chieti e quanti rimangono a Pescara quante unità complesse rimangono a Chieti e quante unità complesse vanno a Pescara ancora più grave quello di Chieti è un clinicizzato cioè c'è un rapporto di convenzione con l'università l'università sarà all'ospedale di Chieti o all'ospedale di Pescara io credo che prima di fare il nuovo ospedale qualcuno questi dettagli che non sono dettagli ce li deve spiegare così come continuo a dire ma scusatemi ma non si può prendere in esame quella che la nuova ingegneria antisismica pone in essere cioè l'ingabbiamento dei due manufatti non si può porre in essere la ristrutturazione che non costa nulla o quasi nulla del San Camillo dell'Ellis che ha resistito a tutti i terremoti e che darebbe una risposta importante soprattutto all'economia della città di Chieti io credo e mi auguro che questo capriccio d'Alfonsiano finisca qui e diamo subito seguito a quello che già la procura ha detto cioè intervenire antisismicamente nell'ospedale di Chieti Ancora sul messaggero welfare d'oro della giunta regionale 300 mila euro per i dipendenti e polemica sulla conferma dello stanziamento per prestazioni socio-assistenziali poi alberghi calo del 40% serve una cura speciale per il dopo-sisma il presidente della categoria Bernabé Bocca scrive ai governatori del centro Italia siamo alla cronaca di Pescara Piazza Muzzi danni per 30 mila euro atti mandalici al mercato coperto il comune paga il conto rubate porte e finestre distrutti i bagni imbrattate le pareti la struttura presa d'assalto a lavori appena conclusi gli interventi di ripristino affidati all'impresa di Carmine aumenta il degrado nella nuova zona del divertimento dopo il grido d'allarme del comitato tranquillamente Battisti dall'aggressione dell'ultimo weekend al caso di via Goito trasformata in latrina la rabbia dei residenti poi in taglio medio sicurezza per Fosso Grande via Arno Pettinari e Cipriani del Movimento 5 Stelle sollecitano opere antiallagamento inascoltate finora le nostre proposte ieri abbiamo avvicinato gli esponenti pentastellati sulla vicenda Pettinari su Fosso Grande e su via Arno il Movimento 5 Stelle ha presentato delle proposte sia alla regione che al comune di Spoltore sì assieme alla nostra consigliera Giorgia Cipriani di Spoltore abbiamo avanzato proposte fattive e costruttive già dal 2014 dal novembre 2014 quando facemmo approvare una risoluzione in consiglio regionale che prevedeva la realizzazione di un salto idraulico a monte del ponticello di via Francia che interessa il comune di Spoltore e una vasca di espansione a valle del ponticello di via Francia per smorzare l'impeto delle acque per mitigare appunto la portata delle acque non solo questa proposta è stata possiamo dire sposata avallata dal genio civile regionale che parla in questi termini e per via Arno che ha problemi simili di esondazione quindi danni causati a centinaia di famiglie sempre nel territorio di Spoltore noi abbiamo riproposto la nostra proposta sui mille laghetti che si dovrebbero andare a collocare sugli invasi naturali del fiume Pescara per mitigare la portata delle acque questi laghetti potrebbero prestarsi a diverse funzioni quelle per la persca sportiva per costruire delle fattorie didattiche per irrigare i campi e quindi le nostre proposte sono a cemento zero e per la realizzazione appunto un sistema sicuramente sostenibile abbiamo ripresentato un'interrogazione in regione Abruzzo perché appunto non hanno dato seguito la nostra risoluzione purtroppo oggi dopo 7-8 mesi della presentazione dell'interrogazione siamo ancora qui a chiedere con forza di accettare questi progetti perché non ci rispondono alle interrogazioni sono proposte fattive per il territorio di Spoltore non solo proposte chiare noi continuiamo a sollecitare l'amministrazione regionale l'amministrazione comunale a venire incontro a quelle che sono le proposte tra l'altro condivise con i comitati con le associazioni ambientaliste e quindi con i cittadini e con la collettività sempre sul messaggero università corre anche trinchese il numero 1 di lettere si propone come rettore di garanzia lontano da cerchi di potere e dall'idea di figura dominante una candidatura che scompagina lo schema territoriale della competizione per scarachieti attesa la risposta di medicina salgono a 4 i nomi ufficialmente in campo i camici bianchi pronti a lanciane rino stuppia poi ancora maxi sequestro di costumi e maschere lo scherzo di carnevale dei carabinieri articoli pericolosi o potenzialmente tossici il NAS distribuisce multe per 10.000 euro in tutta la regione vediamo il servizio circa 5.000 prodotti tra maschere costumi e gadget sottoposti a sequestro oltre 10 attività ispezionate e sanzioni amministrative per 10.000 euro e il bilancio dei controlli che i carabinieri del NAS di Pescara hanno eseguito in tutto l'Abruzzo in negozi che vendono prodotti di carnevale proprio in vista della ricorrenza in particolare in un'attività commerciale dell'Aquilano i militari del NAS diretti dal Maggiore Domenico Candelli hanno sottoposto a sequestro amministrativo più di 1.000 prodotti privi di marcatura CE e delle indicazioni in lingua italiana relative a produttore importatore modalità di utilizzo e caratteristiche tecniche nel Terramano sono oltre 3.000 le maschere e i costumi sequestrati in tre negozi gestiti da asiatici poiché privi delle informazioni obbligatorie al consumatore come imposto dal codice del consumo e quindi potenzialmente pericolosi per la salute umana i controlli dei carabinieri del NAS di Pescara erano finalizzati a tutelare la salute dei consumatori numerosi infatti le insidie che possono nascondersi dietro maschere costumi e gadget glitter e brillantini colorati possono staccarsi e penetrare facilmente negli occhi nel naso e nella bocca sostanze coloranti possono provocare irritazione cutanea gadget e accessori come spade lance cappelli e caschi possono presentare bordi affilati e parti metalliche taglienti il pericolo maggiore è dato dal fatto che i prodotti senza marchio CE quindi non classificati come giocattolo possono infiammarsi facilmente a causa dei tessuti e materiali utilizzati scende dall'auto travolto e ucciso l'incidente a bussi nei pressi dell'allevamento ittico la vittima è Gabriele Scurti 71enne pensionato pescarese è stato investito dalla fiesta condotta da un trentenne chietino sto bene torno a casa ha detto poi la situazione è precipitata andava a comprare delle trote fatale la frattura una costola che gli ha reciso la orta e poi in taglio medio Maragno ostaggio dei ribelli siamo chiaramente a Montesilvano tutti vogliono un assessorato Montesilvano 2019 chiede almeno tre poltrone e anche le teste di De Martinis e di Pasquale di Blasio d'Aventura e anche di Giovanni reclamano posti nell'esecutivo il dimissionario Cilli confida nel sindaco e poi ancora in basso popoli rischio contaminazione coro di no alla cava tra le sorgenti atturi valignani esecutive le dimissioni del sindaco sciolto dunque il consiglio comunale dal prefetto a L'Aquila per le primarie di coalizione il PD lancia la data del 9 aprile oggi la decisione sarà condivisa nell'incontro previsto con la coalizione il voto per la tornata di amministrative dovrebbe essere previsto per l'11 di giugno Carlo Benedetti ha ribadito la sua volontà di misurarsi con il consenso della gente a correre insieme alla terna dei democrat potrebbero essere Giuliano De Nicola o Lelio De Santis restiamo nell'Aquilano ha ucciso il prete rinviato a giudizio Don Paolo Piccoli il gruppo di Trieste ieri mattina ha accolto le tesi della procura omicidio volontario per la morte di un 92enne monsignore decisiva alcune tracce ematiche rinvenute sugli abiti dell'ex parroco di Pizzoli poi vulnerabilità sismica niente soldi per le scuole e in basso Lolli cantore dell'Aquilanità cento anni fa nasceva il cantore della città del ventesimo secolo siamo ora in Marsica Santa Croce il ministero dà ragione a Colella non c'è disponibilità di acqua alla sorgente fiuggino di Canistro la concessione è stata sospesa ieri mattina sopra il luogo della regione il patron ci auguriamo che il pronunciamento romano sia il prologo a una rapida e positiva soluzione della vertenza mentre la guerra continua 75 dipendenti sono senza lavoro e senza stipendio siamo ora alle pagine di Chieti e Provincia del messaggero Abruzzo maxitruff banche aziende arrestati i Bellia e altri 5 i fratelli Gianni chiamato il padrino e Luciano coordinavano una cellula dell'organizzazione simulando acquisto di un'attività e producendo falsi documenti ingannano la monte dei Paschi pesante accusa del GIP di Perugia associazione delinquere illegiti guadagni per 2 milioni e poi come abbiamo visto in precedenza maschere e pistole rapina di carnevale alle poste dipendenti in ospedale bottino di 12 mila euro la coppia di banditi attende che vada via la vigilanza Ivri ed entra in azione a Lanciano processo a Fabio tribunale blindato domani inizia il procedimento per l'omicidio di Italo Delisa ieri è stata completata la giuria popolare presidente Marina Valente cambierà la viabilità per il grande clamore mediatico in arrivo media da tutta Europa la difesa prepara la strategia la famiglia della vittima si è costituita parte civile il questore Lagrasta tutto sotto controllo e poi in basso a vasto operazione tappa buche scatta da via del porto avanti ancora con le pagine di Teramo e Provincia marcia su Roma aumenta la partecipazione popolare saranno oltre 1500 i terramani che domani aderiranno al corteo per il decreto cratere in partenza 30 pullman ci saranno gli imprenditori il vescovo a Ponzano Raffaele Falone presidente di Ance tutti hanno risposto in maniera corale senza distinzioni e poi ricostruzione d'Alberto visita il parco della scienza personale in distacco da regione comuni previste due assunzioni siamo a Giulianova la foce del Tordino causa inquinamento il sindaco Mastromauro e l'ex assessore forcellese confermano lo stanziamento dei fondi da parte della regione per l'arenile ma l'acqua convogliata tutta verso la città comporta l'erosione della costa ed è un serio rischio per la futura beneabilità estiva partono quest'anno i lavori della caserma ma finiranno nel 2018 a Roseto tiene banco il bilancio le opposizioni unite contro i rincari nel mirino la Tari i buoni pasto che interessano 600 famiglie in città lasciamo il messaggero Abruzzo andiamo a vedere ora le pagine della città nel quotidiano della provincia di Teramo iniziamo da pagina 3 risoluzione per rafforzare la sanità teramana presentata da Riccardo Mercante contro una riorganizzazione ospedaliera che penalizza il territorio entro 30 giorni intanto le asla abruzzesi dovranno adottare il proprio atto aziendale in conformità alle nuove linee guida approvate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla programmazione sanitaria Paolucci poi ancora casa dello studente d'amico in cassa la rimozione dei vincoli rimossi gli ostacoli emersi nell'ultimo senato accademico avanti col piano per ottenere 9 milioni rimandata agli organi competenti la perizia definita bollente dalla città ora sarà eseguita dagli uffici interni dell'Ateneo con un parere della Corte dei Conti siamo alla politica Renzo lapidato per l'accordo con Sottanelli il segretario del PD Minosse pone l'ultimatum accordo provinciale con scelta civica oppure Nugnes deve andarsene imbarazzo Roseto in provincia Nugnes sta in maggioranza con il PD a Roseto invece è linea dura contro il sindaco PD Renzo contrariato pare che al termine della riunione PD il presidente di Sabatino si è andato via di corsa sbattendo la porta e poi in basso Dodo alza la posta e presenta la lista della spesa per entrare in giunta assessorato alla ricostruzione ruolo di vice sindaco candidatura a sindaco del centro-destra per il dopo Brucchi e poi caso Luca Antoni data ormai per uscente l'assessore potrebbe restare e far valere il peso dei circa 2000 voti del carnet di famiglia sempre a Teramo l'assessore fa il censimento delle case sfitte il comune cerca un posto per gli sfollati terramani alloggiati nelle strutture residenziali della provincia ipotesi differenti individuare case invendute oppure realizzare casette da 40 metri quadrati su terreni comunali avanti ancora con la cronaca abusivi nelle case popolari un altro sgombero se le persone occupavano un appartamento a Villa Ripa destinato ad una famiglia inserita nella graduatoria domani è il giorno della protesta romana organizzatori al lavoro per ottenere un incontro con il presidente della Camera e con quello del Senato siamo appunto a Carnevale appena trascorso il martedì e ha vinto la dolcezza dei baci perugina quasi 350 iscritti all'edizione 50 della festa della fratellanza artigiana al centro commerciale Gran Sasso l'edizione del 50ennale per lo storico evento dedicato ai bambini della fratellanza artigiana e andiamo in provincia Montorio per i muspi il comune fa da sé in arrivo dall'Emilia Romagna il primo modulo di prova per valutare l'utilizzo come plesso scolastico c'è la frecciata dopo averci negato i muspi mi auguro che la protezione civile ci aiuti almeno nelle opere di urbanizzazione dice il vice sindaco Guizzetti alcuni comuni dell'Emilia hanno raccolto l'appello dunque degli amministratori di Montorio e poi ancora in provincia di Teramo settimana decisiva per le candidature entro domenica l'annuncio di Stanislao e la lista dei 5 stelle ovviamente al comune di Tortoretto ci si prepara anche in questo caso per le comunali continuano gli incontri per formare le liste in vista delle amministrative poi a Ponzano i proprietari rassicurano Ermocolle lontano dalla Frana il ristorante che ospita anche le scuole non è stato mai chiuso durante l'emergenza Giulianova il sindaco accorcia i tempi per la caserma Mastromauro incontra i cittadini e garantisce i lavori in appena 8 mesi la riconsegna ecco qui la struttura sarà aperta e fruibile a partire dal marzo del prossimo anno a Silvia amministrazione in fase di stallo le bag in maggioranza bloccano i tanti progetti promessi da tre anni sono i seguenti villaggio del fanciullo ciclabile bloccata piano regolatore e funivia per il paese la cultura pagina della cultura storie dell'Abruzzo a stelle strisce nel libro di Danese Mancini e Serafini il racconto delle radici abruzzesi negli Stati Uniti e poi ancora autodifesa donne più sicure grazie al corso Crav Maga si è concluso la scorsa settimana lo stagio organizzato dalla dottoressa Teramana Katia di Sabatino e poi per lo sport il Teramo si affida al modulo inaffidabile con la difesa tre hanno fallito Sianofri che Zauli Ugolotti ha dimostrato di poterlo far diventare vincente c'è un cambio di panchina nel girone avviene a Bassano il clamoroso 6 a 0 rimediato nel posticipo di lunedì sera contro il Pordenone costa la panchina all'allenatore del Bassano il pescarese Luca D'Angelo e poi quante prove tornando al Teramo nel momento in cui i tecnici passati hanno provato ad affidarsi a questo modulo hanno perso serve protezione il nuovo allenatore potrebbe farne invece l'arma da sfoderare per tentare la salvezza diretta e poi in basso basket in carrozzina Amicacci Giulianova è pronta alla Final Four di Coppa Italia a Pescara se la dovrà vedere con Porto Torres Cantù e Santo Stefano si parte venerdì ora ritorniamo al centro alle pagine dello sport ecco qui c'è questa due pagine lo scontro Sebastiani l'offerta dov'è e gli annascoli fuori le carte nuovo botta e risposta a distanza tra i maggiori azionisti del Pescara il presidente rifiuta la due dirigenza l'ex amministratore delegato chiede i conti aggiornati non c'è intesa sulla procedura da seguire al fine di portare a termine il passaggio delle quote il socio minoritario per formulare la proposta devo verificare la situazione aggiornata dei numeri la trattativa dunque si infiamma nervi tesi tra i principali proprietari del club Biancazzurro e Zeman segue l'evoluzione e poi ancora non ci sono buone notizie dall'infermeria perché come leggiamo Girardino si ferma ancora out anche Bovo e Baebec dunque slitta il rientro di Girardino oggi i funerali di Alberti Marinelli era una persona eccezionale fu calciatore del Chieti e DS del Pescara e poi c'è questo punto di vista che è quello di Saverio Mancinelli che è stato il curatore fallimentare ai tempi del fallimento della Pescara a calcio occorre chiarezza il bilancio non dice quanto vale il club i numeri sono certamente pubblici ma non possono sollevare tutti i coperchi delle attività e passività avanti ancora con la Lega Pro corsa salvezza al terreno serve un ritmo da playoff i biancorossi devono cambiare passo per evitare il peggio occorrono 17-18 punti nelle prossime 11 partite poi ancora per la serie di Caos l'Aquila via Battisti il club blocca gli stipendi il direttore sportivo paga per tutti adesso l'allenatore Morgia potrebbe lasciare la società ha congelato i rimborsi da riconoscere a staff e giocatori lasciamo il centro e andiamo a chiudere con le ultime pagine dello sport sul messaggero Abruzzo parliamo di Pescara Zeman la scelta giusta Vincenzo Marinelli parla dunque del presidente onorario riportarlo a Pescara è stata la scelta migliore ma non commettiamo l'errore di sminuire Oddo al presidente ho consigliato di fare quello che gli suggerisce il cuore ma se retrocediamo lui ha le capacità per riportare C in A e poi ancora sono certo prosegue Marinelli che tecnico e squadra faranno il massimo per onorare questo finale di campionato poi anche in questo caso vengono ricordati i funerali di Alberti questo pomeriggio alle 14 e 30 nella chiesa dei gesuiti a Pescara la querelle societaria Sebastiani prima l'offerta e poi vede i conti il presidente chiede di quantificare subito l'offerta Giannascoli darà una risposta entro 24 ore e poi il Lega Pro per il Teramo un nuovo avversario il calendario e siamo alla serie di l'Aquila Morgia Resta Battisti paga per tutti l'assemblea dei soci ha deciso di confermare la fiducia all'allenatore Rossoblu mentre a sorpresa è arrivata la decisione di esonerare il direttore sportivo c'è il commento un divorzio che indebolisce la posizione del mister poi di spalla per il basket di A2 Roseto il futuro del club questa volta non fa paura all'azionariato popolare ha aderito anche Gianluca Ginobble del trio Il Volo eccolo qui con la sciarpa dei Roseto Sharks e poi per il campionato di eccellenza campionato di calcio di eccellenza abruzzese la volata promozione mai stata così incerta otto giornate dalla conclusione cinque squadre possono ancora sperare al salto di categoria Noi finiamo qui la rassegna stampa di mattino 6 io ringrazio in regia Silvia Gentile e Gianni Dareò ringrazio voi per la cortese attenzione vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 buona giornata buona giornata di eccellenza di eccellenza di eccellenza